È indubbio sicuramente dire che molti di noi sono traumatizzati dallo Sneakers Day. Ho visto che c'è anche tantissima confusione per questa giornata. Che cos'è, cosa non è, che scarpe verranno droppate in questo Sneakers Day del 2023 e come mai tantissimi di noi pensano che uscirà solo della bellissima... Prima di iniziare con il video ti chiedo subito di lasciarmi un bel like, iscriverti al canale e soprattutto di attivare la campanellina delle notifiche perché se no io questi video non li faccio più. Mi tengo le mie informazioni tipo il mio tesoro e non vi dico più niente ragazzi. Quindi iniziamo subito con il piede giusto. Però da dove nascono tutte le paure? Dal semplice fatto che l'anno scorso sono state rilasciate solamente le Jordan 1 Eye, Taxi ed anche le Jordan 4 Canyon Purple che per quanto possano essere belle le Taxi, RSL non è che stanno messe così tanto bene. Oppure banalmente quando andiamo a parlare di una giornata iconica come potrebbe essere lo Sneakers Day che sarebbe l'anniversario dell'applicazione Sneakers rilasciata nel 2017 dai signori di Nike e grazie al cielo che hanno rilasciato questa applicazione. Allora ci aspettiamo scarpe del calibro di quelle che potrebbero essere magari quelle più in hype uscite nel corso degli otto mesi precedenti perché appunto lo Sneakers Day è sempre ad inizio agosto. Quest'anno invece è stato rimandato di un mese e al posto che farlo l'8 agosto viene fatto il 9 settembre, ovvero sabato prossimo. Diciamo che io mi aspetterei dei lanci un pochino più succosi sicuramente come potrebbe essere di quest'anno le Jordan 1 Low in collaborazione con Travis Scott oppure quelle che potrebbero essere le Air Force 1 Tiffany o le Arritos eccetera. Quindi quando penso a una giornata iconica immagino anche che vengano droppate delle scarpe iconiche. Ma se tornassimo indietro negli anni una scarpa interessante che è stata fatta uscire allo Sneakers Day è stata appunto nel 2018 comunque la Sakai Waffle oppure l'anno precedente nel 2018 le Shawn Waterspoon. Anche lì scarpa fantastica. Dopo quegli anni l'hype per questo giorno è sceso drasticamente per le scarpe che sono state fatte uscire. Ma come funziona lo Sneakers Day nel concreto? In poche parole appunto è questo lancio per festeggiare l'uscita dell'applicazione Sneakers di Nike e di conseguenza vengono rilasciate tantissime scarpe. Più avanti nel video andremo a parlare anche quali scarpe nello specifico verranno rilasciate proprio sabato ecco per capirci. E soprattutto quali potrebbero essere le modalità di lancio? Perché ok adesso abbiamo una drop list con gli orari un pochino più annunciati e sappiamo le scarpe che sono state dichiarate dalle notizie che sono state fatte uscire. Però ci potrebbero essere sicuramente dei restock, da mesi si vocifera di alcune scarpe che potrebbero uscire. Ma prendete ovviamente con le pinze quello che vi dirò e sicuramente se ci dovessero essere aggiornamenti oppure qualche lancio nello specifico oppure qualche modalità nel particolare perché bisogna stare un pochino più attenti se siete abituati solamente alle estrazioni da 15 o da 2 minuti oppure agli accessi esclusivi oppure ai lanci in velocità allora sto parlando di tutt'altro perché ci sono alcune modalità che Nike riserva per gli avvenimenti particolari. E esattamente quali sono? Beh in realtà i lanci di Nike sono 6. Partiamo dai più semplici ovvero le raffle che ci dividono in due lanci i dendrop ovvero le estrazioni che vanno in genere dalle 9 fino alle 9 e un quarto e di conseguenza avete questi 15 minuti per iscrivervi per poi ricevere l'esito verso le 9 e 17 questa modalità Nike tende ad utilizzarla per i lanci con un pochino più di hype perché sa che la sua applicazione Brick ci vuole più tempo affinché tutti riescano a partecipare e quindi si tiene questi 15 minuti. Poi sempre parlando di raffle c'è il leo drop. Il leo drop funziona semplicemente che vi potrete iscrivere dalle 9 fino alle 9 e 2, 9 e 3 massimo e poi dopo questi due minuti riceverete l'esito dell'estrazione alle 9 e 4, 9 e 5 massimo e queste sono le due modalità di lancio che Nike utilizza di più. Per farvi un esempio concreto delle ultime scarpe che sono state rilasciate le Jordan 4 è stata un'estrazione da 15 minuti invece le Kobe è stata un'estrazione da 2 minuti all'interno dell'applicazione Nike. Chiudiamo velocemente con le modalità che vengono utilizzate di più perché tutti quanti le conoscerete i lanci FCFS e più nello specifico ne è successo uno la scorsa settimana sempre con le Jordan 4 e le Jordan 1 in collaborazione con Union ed è stato a luna di pomeriggio, in poche parole vuol dire first come, first served e tradotto letteralmente è il primo che arriva si porta a casa la scarpa e gli altri se la pigliano in quel posto. Comunque rilasciano le scarpe e solo i più veloci riusciranno a copparle. Oltre ai lanci FCFS ci sono gli accessi esclusivi quindi vi arriverà la notifica se avete l'accesso esclusivo potrete coppare la scarpa. E queste sono le modalità di lancio più conosciute dei signori di Nike. Comunque tornando a noi e facendo un pochino più di chiarezza perché magari molti non mi riescono a seguire bene. Abbiamo lo sneaker stash. In poche parole funziona che noi dovremo essere in un determinato posto per poter partecipare a questa estrazione. Cosa vuol dire? Che Nike ti farà sbloccare il checkout solamente se in poche parole abiliti la geolocalizzazione e sei in un determinato posto che scelgono loro. Si può ovviamente raggirare banalmente con uno spoofer GPS ed in poche parole voi potete mettere le coordinate che volete. L'esempio eclatante che mi ricordo è appunto quello successo la scorsa estate e in realtà eravamo verso settembre con l'uscita dell'Air Force One Brooklyn in collaborazione con Off-White che appunto le coordinate si diceva fossero in un museo e di conseguenza eravamo in 700 milioni in quel museo e poi magari in realtà non c'era dentro fisicamente letteralmente nessuno. Comunque questo è per quanto riguarda lo sneaker stash e funziona così. Un'altra modalità di lancio che viene anche questa utilizzata abbastanza è appunto lo sneaker scam. Un esempio che io mi ricordo tantissimo di uno sneaker scam è quello successo per le Air Max in collaborazione compatta. In poche parole dovrete avere due dispositivi. Uno per inquadrare l'immagine che sicuramente manderò su Discord e che ho sempre mandato su Discord e poi nell'altro ovviamente avere l'immagine. Come funziona questo lancio? Che voi dovrete andare nell'applicazione sneakers trovare dove aprire la fotocamera in genere vi basterà refreshare la home che bene o male si capisce o comunque si intuisce cliccare e vi verrà chiesto di sbloccare l'accesso alla fotocamera. Una volta che avrete sbloccato l'accesso alla fotocamera semplicemente inquadrate l'immagine e vi sbloccherà il checkout. Molto semplice in realtà. L'ultima modalità di lancio che ha senso citare è lo sneaker scratch. Lo sneaker scratch è semplicemente il grattevinzi. In questo caso non è super intuibile come la sneakers cam. Vi faccio l'esempio con la Jordan 4 Canyon Purple che è uscita lo scorso Sneakers Day. Voi dovevate aprire la pagina classica della scarpa e poi scrollare un po' e sotto c'era questa immagine semplicemente da grattare. Vi metterò un video e capirete subito di cosa sto parlando. Una volta grattata vi porterà direttamente al checkout e potrete tranquillamente copparvi la vostra succosa scarpa. Spero sia succosa perché la Jordan 4 è stata tutto tranne che quello a parte per qualche taglia. Io parlo sempre però da reseller. Mi interessano sicuramente le scarpe, averle in collezione, però guadagnarci. Quindi se vuoi guadagnare anche te da reseller clicca il link nella descrizione oppure nella scheda in alto destra ed entra nella mia community perché riceverai sicuramente tutte le informazioni per il prossimo Sneakers Day e poi anche tutta la formazione necessaria per non parlare di tutta l'assistenza. Se vuoi c'è anche un software che ti farà il checkout in automatico. Diciamo che all'interno della mia community ci sono tutti gli strumenti per iniziare davvero questo business. Sorsetto d'acqua che non fa mai male. Queste sono le modalità di lancio guys. Non è che ci sia tanto da spiegare, tanto da farvi capire. Sono tre più esclusive. Sneakers Dash, Sneakers Cam e Sneakers Scratch. Lo Stash è quello della geolocalizzazione quindi dovrete essere in un posto per sbloccare il checkout. Lo Sneakers Cam dovrete inquadrare una determinata immagine che ovviamente dovete avere qualcuno che ve la mandi perché in genere, che ne so, lo scorso Sneakers Day è stato tramite volantini a Berlino se non sbaglio per sbloccare il checkout della taxi. sto andando a memoria. E poi lo Sneakers Scratch semplicemente dovrete grattare un'immagine all'interno dell'applicazione di Sneakers. Poi Dendrop Raffle da 15 minuti, Lodrop Raffle da 2 minuti, accessi esclusivi, accessi esclusivi, e i lanci FCFS che sono i lanci in velocità. Poi se mi sono dimenticato qualcosa fatemelo ovviamente sapere nei comments. Ma passando più nel concreto, quali saranno i lanci interessanti che usciranno in questo Sneakers Day? Ne abbiamo sicuramente alcuni annunciati che sono già presenti nell'applicazione nei lanci in programma. E poi altri che si vocifera, altri confermati, altri che si vocifera non un po' meno di confermati del cugino che ha detto all'amico di quello che gli ha venduto il cane di sua zia. Adesso vi dirò tutto quanto. Lo Sneakers Day incomincerà alle 9 che ci sarà un paio di Air Max. Poi per passare alle 10.30 con le Jordan 1 e Sashiko. Alle 12.30 le Dunk Low Vintage. Alle 14 le Air Max Plus, le classiche TN per poi passare alle 15 con le Air Foodscape e poi alle 15.30 con le Dunk Low University Red nella versione del 2020. Quindi ci sarà un restock. Queste attualmente sono ottime da resell quindi non mancate assolutamente. Invece le Jordan 4 sia nella versione normale che nella grade school della colorazione Red Cement sono annunciate però non sappiamo attualmente l'orario. Quello che so io è che ci sarà il lancio lo Sneakers Day e poi il lancio ufficiale il 16 settembre. Le paia caricate all'interno dell'applicazione Sneakers sono circa 40.000 paia per le taglie normali e circa 6.000 per le taglie grade school ovvero quelle che vanno dal 35.5 fino ai 40. E proprio per questo mi collego ai lanci esotici perché non essendoci il lancio in programma nella classica applicazione molto probabilmente verrà utilizzata una modalità esotica. Una notizia che gira da mesi è che ci sarà un restock delle Jordan 4 Pine Green per questo Sneakers Day o delle Jordan 1 Chicago oppure si dice molto delle Jordan 1 Low in collaborazione con Travis Scott sia nella colorazione olive che nella Black Phantom. Ovviamente prendete con le pinze quello che vi ho detto adesso di questi restock esotici. Quelli tra virgolette confermati e di buoni ovviamente sono le Jordan 4 Red Cement e le University Red del 2020. Però al 100% se dovesse uscire qualcosa di più o qualche notizia ve lo farò sapere su Discord quindi link in descrizione o nella scheda in alto a destra per entrare nella mia community privata. Ragazzi io spero di essere stato abbastanza esaustivo spero di non aver creato della confusione comunque i lanci sono molto semplici nella barra di scorrimento comunque trovate ogni capitolo e anche nella descrizione giusto per tornare indietro e rivedervelo un attimo. Lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche se pensate che questo video vi possa essere utile. Detto questo buona giornata a tutti.